Oggi vi porto in una trattoria nascosta in Liguria Trattoria allo scogliattolo a Masone Location veramente niente male Da classica trattoria dell'entroterra della Liguria Andando in bagno affacciandomi una porticina Ho visto delle crossate che si stavano raffreddando Quindi promette veramente molto bene Però adesso passiamo ai primi secondi e tutto I primi tutta pasta fatta in casa Abbiamo preso i raviolini con il ragù di carne E poi i tagliolini con il sugo di cinghiale Ispiro tantissimo entrambi Raviolini Il ripieno bello saporito Non male Questi li prenderei volentieri Vediamo sti tagliolini Va un bel livino Buon appetito L'olio, l'unto la fa da padrona Guarda fa come trasudono l'olio Questo è ignorante Come secondo il roast beef tonnato e cimala genovese Bella spessa E' una cimala genovese Conclusione con una semplice panna cotta E crostati di albicocche Molto buone Conto finale per tre persone 85 euro Trattoria allo scogliattolo Umile Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti